Un po' di rammarico per me c'è perché eravamo molto vicini, quando sei a 5 minuti dalla fine sei lati, dispiace un po', però penso che noi abbiamo fatto una grandissima prestazione, specialmente nel primo tempo dove ho visto un grande calcio, potiamo fare molti più gol, non abbiamo chiuso la partita, poi abbiamo sofferto un po' i lanci lunghi, spizzate, queste cose qua, però ragazzi sono stati veramente grandi, quello che mi interessava era che fanno una grande prestazione e l'hanno fatto. Penso che la logica di Crotone deve rimanere questa, di qualche giocatore esperto, ma tanta gente giovane, vogliosa, che ha margini di miglioramento importanti come quest'anno, che abbiamo visto dall'inizio alla fine, giocatori trasformati perché sono giovani e hanno margini di miglioramento, per cui secondo me, come Ursino dice, sicuramente Crotone rimane su quella strada. Grazie.